Al cinema, Studio 666, al cinema da 23 al 29 giugno, quindi proprio un lasso di tempo brevissimo, ma in realtà tanti film vanno, ciao Fenrir, tanti film vanno al cinema così poco, però non fanno bene a dirlo, c'è poco, quindi sveglia, forse che per me poi è una strategia di marketing. Parliamo di Studio 666, film horror comedy di BJ McDonnell, dentro ci sono i Foo Fighters, proprio il gruppo, come attori, e all'interno del film loro fanno i Foo Fighters, e io pensavo invece facessero così, non so perché mi ero convinto che facessero un gruppo musicale che però non è i Foo Fighters, ma un altro gruppo, invece no, loro fanno proprio i Foo Fighters. Vediamo un po', perché avevo visto in realtà qualcosa su questo regista e mi sembra che non abbia moltissime esperienze da, appunto, director, infatti questo è il suo primo film, lungometraggio, prima ha fatto solo video musicali, un documentario e uno shorts. No, e ha fatto anche, ha fatto anche un lungometraggio nel 2013, che è Hatchet 3, Hatchet 3, che è una saga abbastanza conosciuta. Io credo di aver visto però solo il primo, il 3 non l'ho visto, chissà com'è. Allora, il film racconta la storia di una, di questa band, i Foo Fighters, che ovviamente hanno l'età che hanno, ragazzi, i Foo Fighters sono, sono, persino i Foo Fighters sono vecchi ormai, che deve fare un nuovo disco, un disco importante, perché sono dieci anni di carriera, non so, e quindi vogliono trovare una location che sia molto adatta per trovare la creatività, il rock. E il loro agente li fa andare in una casa abbandonata, che verrà rimessa a posto e cablata con cavi per, appunto, le chitarre, il suono, la registrazione del suono, eccetera. E in questa casa, loro potranno abbandonarsi alla creatività e creare finalmente questo disco, perché il loro agente ha bisogno di fatturare e loro, penso pure. Vediamoci il trailer, che cerco un secondo, Red Band però, perché è veramente potente quello Red Band. What the fuck? Dave Grohl's been possessed, now he's on a murderous rampage. Any chefs in the group? I'm pretty handy on the grill. So fucking juicy. Is the album almost done? It's killer. My latest guilty pleasure. You're welcome music. Allora ragazzi, Parliamo di... Si, fa ridere, fa ridere. Adesso parliamo di questo film. Allora, 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 allora. Ragazzi, ho dei sentimenti contrastanti. Ho dei sentimenti estremamente contrastanti. Chiaramente, loro vanno in questa casa e c'è qualcosa di malefico nella casa. E chiaramente da lì succederà, come in tutti i film horror. Quindi questo non è spoiler. Questo è, per chi conosce l'horror, è un classico. Il film è un classico. La casa ha qualcosa che non va. Loro vanno nella casa per registrare il disco. E succederà un patatrack. Che non vi dico, ma che potete immaginare. Il film si ispira, ed è bello secondo me. Io, infatti, il titolo della live l'ho chiamato i Foo Fighters trovano il Necronomicon. Si ispira un botto, un botto a Evil Dead. Ma il film di Sembraimila a casa. Storie di quel genere, diciamo. Con tantissimi riferimenti a quel film. Ma anche ad altri film horror di quell'epoca lì. Anni Ottanta, eccetera. Non vi dico altro per non spoilerare troppo. Ho dei sentimenti contrastanti. Perché il film, da un certo punto di vista, ha una qualità pessima. Nel senso che si nota tantissimo che il regista non è proprio un regista di film. Infatti, le parti migliori, dal punto di vista proprio della regia, del montaggio, sono quelle più musicali. Più montate sulla musica, sul ritmo. Ci sono certi giochi legati alla musica, legati al ritmo, che sono montati bene, girati bene. Sono divertenti. Danno tantissimo ritmo al film. Tant'è che appunto il film è proprio abbastanza godibile fino a un certo punto. Fino a, diciamo, un po' più di metà. Proprio perché è la parte più dedicata agli aspetti musicali. Perché loro sono una band, e quindi dovranno fare un disco. E questa parte qua è fatta bene. Quando, diciamo, questi aspetti qua verranno un po' meno e ci sarà più da raccontare, si noterà che il regista non ha un linguaggio cinematografico da film. E quindi in certe cose risulta un po' povero di elementi, di conoscenze. Non per dirvi che vi troverete di fronte a una roba fatta malissimo. Semplicemente che è un film che ha tantissimi aspetti veramente fatti bene, veramente curati, come gli effetti speciali. Ragazzi, gli effetti speciali in questo film sono strepitosi. Sono meravigliosi. Io non so chi li abbia curati, si potrebbe anche andare a indagare, perché forse sono anche uno studio famoso, ma sono veramente bellissimi. E anche appunto certi aspetti del montaggio e certa CGI è meravigliosa. Avete potuto vedere, per esempio, alcune scene nel trailer dove Dave Grohl fa dei sogni, lui è nel suo letto e c'è lui che fa dei sogni con dei mostri intorno, che sono, vi faccio vedere giusto un pezzettino, che sono un miscuglio di, appunto, effetti reali con post-produzione. Dave Grohl's been... E sono veramente... Questi scenari qua, ragazzi, questi scenari qua, che vedrete nel film, sono meravigliosi. Sono stupendi. Sono fatti da Dio, proprio... Hanno... Non so come dire, hanno dei richiami con il vecchio... Ah, con il vecchio cinema horror, anche italiano, secondo me, certi film, però fatti veramente bene, divertenti. Poi, però, il film, purtroppo, ha... ha troppe cose che... ha tante cose che sono un po' cheap, tra cui, appunto, sono... sono un po'... diciamo, non a un buon livello, tra cui, purtroppo, la recitazione di alcuni elementi del... della band. Stiamo parlando di una band musicale che ha velleità da attori, perché loro hanno sempre fatto videoclip con storia, con storia comica, divertente, dove fanno... loro fanno i comici, fanno le facce, fanno le... però non hanno mai parlato molto, recitato molto. Hanno sempre fatto i personaggi, le macchiette, nei loro videoclip. Qui, la prova è da attori è molto più impegnativa, perché loro fanno loro stessi, sono... per quanto sono simpatici, sono comunque persone reali, e quindi devono interpretare si stessi. E, dal punto di vista della comicità, sono bravi, fanno ridere, spaccano, cioè, sono bravi. Però, in altri frangenti, proprio nel recitare le situazioni più normali, non sono credibili, sono proprio la band messa a fare gli attori. Gli unici, diciamo, che si possono salvare, forse sono appunto, no, direi che solo Dave Grohl è realmente più portato, più adatto anche a fare l'attore. Anche se persino lui, comunque, non è sempre sul pezzo. Ragazzi, un conto è fare un videoclip dove ci sono tre scene, e un conto è fare un film, e Dave Grohl è presente in tutto il film, tantissimo. Quindi, ci sono addirittura dei punti dove proprio non è convincente, non è... sembra un po' la recita della scuola. Detto ciò, detto ciò, nella sua prima parte, il film è una bomba, è divertentissimo, cioè, le battute fanno spaccare dal ridere. In sala, era una sala di... Cioè, era un'anteprima stampa, non era una sala dal pubblico, quindi, anche gente un po' grande, c'era la gente che rideva sguaiatamente. Ci sono delle battute veramente fenomenali, fanno ridere, scritto bene, la prima parte, cioè, i dialoghi sono divertenti, e il film scorre, come dicevo prima, ha una parte musicale, ha un buon ritmo, gli effetti speciali funzionano, e il film tira dritto fino a un certo punto, tanto da farmi pensare, cazzo, io esco da qua e ne parlo come fin dell'anno, non fin dell'anno, però, tra i film comici, i film che non si prendono troppo su serio, avrei quasi detto, cazzo, ragazzi, questo film è una bomba. Purtroppo, però, qua c'è il solito vecchio errore del regista, che, del regista, o della produzione, non so chi, chi cazzo, che forse si piace un po' troppo, e ragazzi, il film dura troppo, il film dura troppo, per quelle che sono le capacità, sia di scrivere il film, che di girarlo, perché, con una bella mezz'ora e meno, questo film, secondo me, era anche da sei e mezzo, sette, invece, invece, si autodistrugge, sul finale, il film si autodistrugge, cioè, diventa, da sbadiglio, proprio, nonostante ci siano, vomito, litri di sangue, teste decapitate, mostri che si sciolgono, combattimenti, anche lì, qualche battuta, ma già lì, non fa più ridere, il film, non fa più ridere, le battute sono esaurite, quindi, è un vero peccato, perché, eh, una prima parte, è veramente fenomenale, divertentissima, eh, in cui puoi anche, chiudere un occhio, su certi appunto, mancanze, da un punto di vista tecnico, e anche recitativo, puoi chiudere un occhio, perché i ragazzi fanno ridere, i ragazzi fanno ridere, quando devono fare la battuta, fanno ridere, quando devono fare, gli stupidi, e va bene, che sia anche, eh, recitato un po', un po' come sono recitati, i film dalla troma, però, eh, poi alla fine, ti becchi, sti tre quarti d'ora, inutili, dove, viene fuori un papocchio, un papocchio, dove ci sono scene, non sense, eh, sembra, sembra anche quasi, in mano, a persone, che, non hanno una vera consapevolezza, di quella, che è la storia dell'horror, cioè, all'inizio, sembra molto chiaro, eh, l'obiettivo, cioè, citare, i film come La Casa, a citare, un certo tipo di rituale, un certo tipo di, eh, trama, che si, che si, si perpetua nel tempo, si ripete, e continua, da un film all'altro, sembra, più o meno, sembra un grande, human sentipede, questa trama, no, questa trama della casa, in realtà, continua, i, il, il mondo del male, c'è anche nel, in Stranger Things, il mondo del male, e il mondo del bene, le porte, e il contatto, c'è Silvano, e il contatto, tra questi due mondi, è sempre così, è sempre la stessa storia, però, ecco, mentre se all'inizio, sembra, che il film sia in mano, a una persona, che conosce, questi argomenti, la fine, sembra proprio di no, sembra che, eh, non si sappiano, le regole, più o meno base, e che, quindi, alla fine, sembra un po' dato in mano, a una persona, che non conosce l'horror, e c'è un miscuglio, di cose assurde, che non hanno senso, e che non fanno neanche ridere, quindi, alla fine, il film, eh, è per metà, estremamente divertente, e simpatico, e poi, alla fine, si autodistrugge, diventando palesemente noioso, eh, non più citazionista, ma goffo, goffo, e quindi, insomma, è un film, che, consiglio, se non avete tantissime pretese, vi piacciono gli effetti speciali horror, avete voglia di farvi due risate, vi garantisco, che la prima parte di film, fa spaccare da ridere, però, se cercate, un piccolo gioiellino, dell'horror comedy, non è questo il caso, purtroppo, poteva esserlo, ma non lo è, poteva esserlo, tagliando, mezz'ora di film, e, dando un finale, più sensato, al tutto, ma non lo è stato, quindi, diciamo, è un po', un film, che aveva un potenziale, ma non ce l'ha fatta del tutto, per gli amanti, dei Foo Fighters, questo è un film, da non perdere assolutamente, perché, io non sono un grande tifoso, dei Foo Fighters, della loro musica, anche se qualche canzone, penso che abbia delle belle sonorità, e delle belle idee dietro, e, comunque, mi è entrata dentro, anche un po', per via del mainstream, mi è entrata dentro, la conosco, eccetera, David Grohl, mi sta simpatico, mi stanno simpatici tutti, loro sono, 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 una gente in gamba, e quindi, il film te lo guardi volentieri, ma se sei proprio fan, dei Foo Fighters, te lo godi, secondo me, chiudi anche un occhio, su tutti gli aspetti negativi, del film, mi sono piaciuti, tantissimo gli effetti speciali, non, si tira veramente indietro, su niente, sangue, core, veramente a tonnellate, un pochino pudico, sulla questione nudità, nel senso che, non c'è niente, non c'è niente, sembra quasi, lo dico non perché lo pretendo, ma perché è talmente, evidente, che c'è un'autocensura in questo, che un po' si nota, cioè, un po' si nota che il film si autocensura, e quindi sembra un pochino una roba, da chirichetti, questo film qua, da quel punto di vista, insomma, avere anche il timo, è proprio, è proprio quel, quell'essere puritani americano, che c'è ultimamente, proprio questo timore, di far vedere mezza tetta, di far vedere, insomma, se fai vedere una scena di sesso, poi non puoi fare, troppo il puritano, tra l'altro, la scena di sesso in questione, è quella dove vediamo, i due tagliati a metà, da una motosega, una scena realizzata da Dio, una scena meravigliosa, un'ultima nota, diciamo, carina, per gli amanti dell'horror, all'interno c'è un cameo, di tutto rispetto, di un grandissimo, grandissimo personaggio, del cinema horror, che scoprirete solo vedendo il film, diciamo che questo è un po' tutto, per riguardo a questo film, è comunque un film che consiglio, non è il nuovo Sean of the Dead, insomma, la parte splatter e la parte comica, della prima parte, salvano tantissimo la pellicola, insomma, questo è tutto per Studio 666, ragazzi, spero che, comunque spero possa piacere, se siete fan di Foo Fighters, andatelo a vedere, grazie a tutti,